Una buona prestazione della squadra, poi ha contribuito con un giogno. Sì, è molto importante questa vittoria, siamo molto contenti dopo un'ottima prestazione da parte di tutti, da parte di quelli che sono entrati dopo. Cancellata la prestazione opaca di domenica scorsa? Domenica scorsa è stato un passo falso, però siamo stati bravi a mettere tutto a parte, a vedere cosa c'era che non andava e fare bene oggi.